Ecco la salita dei gradoni, qua c'è Michele, Karan, Appiano, attendo, ecco risolgono Teddy, Mach, Guido, Gabriele, Andrea, Riccardo, Lorenzo, Alessio, Nicola, Zenzetto, come va Pitbull, piano piano, attento a non scivolare sui, ecco Michele che riscende, pure Karan, appresso, allunga la gamba e recupera, anche tu Antonio, allarghiamoci, allunghiamo queste gambe e recuperiamo, vai 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 Riccardo, su su su, su Riccardo, allunghiamo, andiamo su con la punta, andiamo piano a scendere, va in gara Intanto cambiamo la gamba Facciamo recuperare, facciamo questo movimento qua, deve essere coordinato, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e poi a scendere, 1, sulle punte, 2, 3, in in fondo, ok, recuperiamo, troviamoci lo spazio, se no andiamo a tosse e saliamo, via, insieme, 1, 2, allarghiamo queste gambe, 1, 2, 3, vediamo quello spazio dove non è bagnato, ok, quando saliamo, guardate il movimento della gamba, Allarghiamo la gamba, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, scendere il corpo, facciamo qua, 1, deve rimanere sulle punte, 2, ok, via! Grazie! Pronto? Recupero, recupero!